Il 14 gennaio è scattato lo stop alla plastica monouso. È entrato in vigore il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre scorso. Niente più piatti e bicchieri di plastica, bassoncini per le orecchie, posate e bacchette, cannucce, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, agitatori da cocktail, buste e pacchetti. Chi transigge il divieto sarà multato, però in queste prime settimane è consentito smaltire la plastica monouso a disposizione. Stiamo parlando di quelli realizzati con plastica non biodegradabile e non compostabile. Oggi l'80% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge europee, dicono le associazioni ambientaliste, è costituito da plastica e il 50% dei rifiuti marini da plastica monouso. Questo provvedimento, dicono, mira a tutelare soprattutto il mare. Perché questo molto spesso è una forma di inquinamento invisibile, perché queste plastiche si degradano, si spezzettano, diventano microplastiche e vengono ingerite dai pesci e entrano nella catena alimentare anche umana. La questione è cambiare atteggiamento, cambiare modalità di consumo. Noi cittadini abbiamo nelle nostre mani il potere del cambiamento. Io credo che questo sia un piccolo gesto che costa pochissimo veramente ai cittadini, però è un vantaggio straordinario per il nostro ambiente.